Luca, sai che in questo video parleremo delle 5 cose che ti aiuteranno a fare 30 kill su Fortnite? Uuuuh Eh sì, ma prima devo raccontarti un episodio che mi è successo ieri Dimmi tutto Ieri tipo ero alla cena di classe e ho scoperto una cosa scioccante, ma proprio scioccantissima nella serie Non so se ti ricordi, sono veramente euforico che c'è la tipa che è scioccata perché ha 622 mila euro sul codex In un mese! Esatto, esatto Oh, sono ancora in stato di shock Ancora più scioccante di quella roba lì, pronto a scoprirla? Dimmi tutto Tipo ho scoperto che uno dei prof più bomber che avevo alle superiori è un gay dichiarato Vecchio, ci sono rimasto proprio male nel cuore, ti giuro E più bomber cosa intendi? Che era stra simpatico, che tipo Beh scusa non è che i gay sono antipatici No vabbè ma nel senso, era uno di quei prof che tipo è stra divertente, che è buono in un certo senso eccetera eccetera Che comunque rispetti perché è buono, tipo ho scoperto che è gay Ma la cosa ancora più scioccante, cioè in contraddizione con questa, è che invece un prof che tutti pensavamo che fosse gay, una volta mia madre l'aveva visto al supermercato con una donna che mia mamma ha fatto che tipo è sua moglie Però il discorso è che invece quello gay è sposato, sarà una copertura, sarà una copertura sicuro Guardala come gossipizza E se il professore vedi cosa parli nella cena di classe con i tuoi compagni, scusa un attimo Di figa no? Perché eravamo tutti maschi quindi Comunque, a parte ste cose In background a questo video state già vedendo il gameplay di 33 kill solo of squad Uno dei migliori gameplay su pura fibra italiana Infatti non è mio Ah stavo per dirti, hai fatto 33 kill No eh sì, infatti il gameplay non è mio ma è di SharpsZN Ma lo sfrutteremo per lo scopo di questo video Che è, appunto, le 5 condizioni necessarie e sufficienti per fare 30 kill su Fortnite, capito? Tu sei pronto Luca? Sì sì, io faccio spesso 30 kill No, perché Luca non sa queste cose e è una sorpresa per lui, ma lui le commenterà Cioè le 5 condizioni che senza quelle non potete proprio farlo, capito? Cioè è impossibile, 5 cose senza le quali è impossibile fare 30 kill su Fortnite E direi di partire dalla prima Numero 1 Numero 1 Avere un console o un PC Mi sembra ovvio che se non hai una console o un PC Difficilmente riuscirai a fare 30 kill Addirittura dicono che basti anche un telefono Cosa ne pensi di questa prima? Ti sembra una condizione, insomma, necessaria per fare 30 kill su Fortnite? No, sicuramente anche avere degli occhi per guardare lo schermo Vabbè, vabbè, ma ognuno penso che nasca con gli occhi Difficilmente uno nasce Ah sono senza occhi Non si sa mai Comunque sì, è vero, è vero Punto numero 2 Avere un PC o una console o un telefono che reggano Fortnite Perché se tu hai un Nintendo Gamecube o un Nintendo DS Difficilmente riuscirai a fare 30 kill su Fortnite Perché non te lo regge, no? Anche con il classico telefono di tua zia non riuscirai mai a fare neanche una kill Infatti Ma neanche con quelle console che le zie povere ti comprano Sapendo che a te piacciono i videogiochi Che sono tipo i Nintendo tarocchi da 9,90€ con mille giochi Mai visto in Italia No Vabbè Cosa? Sì, che erano tipo nere, tipo lo schermo e c'era solo roba nera E tipo erano giochi tipo Snake, no? Quelle robe lì Ma la zia handicappata che non sa niente Te la compra pensando che sia il Nintendo che ti piace tanto, no? Ecco Ma che cavolo Vecchio, eh, vabbè A me è successo E fin qui ci siamo Regole indispensabili No, vabbè, poi sarebbe anche da aggiungere uno schermo Perché se hai la console ma non hai uno schermo O comunque audio e robe Difficilmente, no? Ti riesci a giostrarti per fare 30 kill su Fortnite Anche la corrente in casa ci vuole Eh, eh, mi sembra normale Numero 3 Essere 12 più Eh sì Perché raga, il gioco è 12 più Ci sono delle regole da rispettare Se non avete 12 anni o più State facendo una cosa completamente illegale State giocando a Fortnite Oh cacchio Se fosse per me Gente 12 meno non giocherebbe a Fortnite Tipo Fra, disco cugino, pazzo Non giocherebbero a Fortnite Assolutamente Io ho fatto giocare mio nipote che ha 10 anni Come faccio? Vecchio Raga, io scappo Io adesso chiamo la polizia Punto numero 4 Avere una connessione super potente Eh, io qui fallisco Vecchio Infatti, infatti Aspetta che ti disattivo il tuo microfono Per fare Hai disattivato il tuo Ah sì Allora, infatti si sa Che per avere una connessione potentissima Fin da subito La cosa da fare è assolutamente quella Di iscriversi al canale E attivare la campanella Per diventare dei connessionati puri Perché si sa Che i connessionati puri Hanno una connessione che spacca Ma se volete proprio il modem Che esplode Da quanta connessione c'è Dovete andare nello shop E inserire il codice Supporta un creatore OctiPFI Cioè, anche questa è una condizione necessaria Per fare 30 kill su Fortnite Per finire La numero 5 La condizione numero 5 Fare 30 kill su Fortnite Mi sembra ovvio Che per fare 30 kill su Fortnite Devi fare 30 kill su Fortnite Di fila Senza morire Mi sembra giusto, no? Eh sì, però Non capisco Cioè, è strano Beh, vecchio Sembrerà strano Ma il nostro Sharp ZN invece Lo sta facendo Nel gameplay Che stanno vedendo Sotto di noi Quindi in realtà Non è così difficile Fare 30 kill Una volta che hai Soddisfatto le 5 condizioni Mi sembra più Cioè, più che naturale Che Comunque No, vabbè, dai No, adesso siamo seri Adesso daremo invece 5 consigli Che sono veramente seri Che veramente Ti fanno Ti fanno Fare le 30 kill su Fortnite Mi sembra ovvio Ok No, no Adesso abbiamo scherzato Adesso Allora La regola numero 1 Dimmi Dimmi Cosa c'è? Io non so se Magari anche loro Saranno un po' confusi Ragazzi Sono confuso anch'io Ve lo giuro Non sono mai stato così confuso Neanche la maturità Mai stato così confuso In vita mia Bene Regola numero 1 Usare armi forti Perché se pensi di fare 30 kill Col cecchino di merda Semi automatico Con la pistola Dei pirati Con le doppie pistole Non penso che le fai 30 kill su Fortnite Con armi scarse Ok Quindi 5 pistole a tamburo E si va a vincere Esattamente Esattamente Cioè, altrimenti Senza le armi forti Non si combina niente Consiglio numero 2 Giocare in solo squad Perché se vai in singolo E provi a fare 30 kill Cioè, devi essere strafortunato Trovare il 30% della lobby E li rubano tutti Quei pro player lì Con le skin da calciatori Che vanno a pinnacoli Esatto Anzi, neo inclinata Neo inclinata No, scusate Hai ragione, hai ragione Non ti permettere Scusa, scusa Consiglio numero 3 Stare fuori dalla tempesta Perché questo non molti lo sanno Ma la tempesta ti infligge danno Se ci stai dentro E di conseguenza Non ci troverai dentro i giocatori Quindi per fare 30 kill Dovresti stare fuori dalla tempesta In questo modo Troverai i giocatori Che anche loro sono fuori dalla tempesta Difficilmente troverai i giocatori Nella tempesta Vivi Ah, questa qui è nuova Non l'avevo mai sentito Il secondo ho visto un po' di video Ma se cosa È colpa degli youtuber Che non le dicono mai Questi consigli sono i più utili Vero I primi sono Pura fibra italiana E cico cugini Io li bannerei da youtube Certe cose sono così scontate Che i pro player Non lo dicono neanche Ma sono proprio quelle Che invece sono le cose importanti Le più importanti Vecchio Guarda che Soprattutto io quando ho fight Che sono lì Ma guarda che la numero 4 Ti stupirà ancora più Della numero 3 Vai Dimmela La numero 4 Sono qui attaccato allo schermo È avere una mimetica chiara E lucente per le armi No perché Se tu hai una skin Lucente Tipo la bombarola lucente O tipo la mia skin La specialista delle scintille La mia preferita E hai una mimetica Brillante O lucente Quando sei all'aperto Il sole Riflette sulla mimetica E accecca i nemici Cioè i nemici Non vedono più niente Quindi tu Tu sei lì Ma anche col cecchino Se tu miri col cecchino Il sole Riflette sulla lente E accecca i nemici Non vedono più niente Quindi devi usare Una mimetica più chiara possibile Oppure Una skin riflettente Tipo la specialista Le scintille Vecchio Questa è una tattica Cioè Infatti Il nostro caro pro player Che sta facendo adesso Le 33 kill Fidati Che sta usando Una mimetica lucente Che fa schifo Non usa nessuno Quella skin È tipo la wrestler Rara femminile Non so se Che schifo Ecco Però è riflettente E quindi i nemici Non capiscono più Non vedono E questa è la tattica Quindi sono tutti fermi A farsi sparare Tipo come in Dragon Ball Quando fanno il colpo del sole Non vedono niente Esatto Sono ciechi E se è notte su Fortnite Come si fa? Se sei riflettente di notte Il buio viene riflesso E quindi tu sei invisibile Praticamente Capito? È un fantasma Vecchio È tipo le bombe fumate Uguale È una bombe fumagina Ma permanente Esatto Sempre Cioè è vecchio Guarda che qua Infatti andiamo al consiglio numero 5 Quando fightate Dovete buildare O proteggervi Cosa che non tutti fanno Perché Cioè Non tutti la fanno Questo credo sia il vero Se tu avessi detto questa cosa un anno fa Uno avrebbe detto Ah cavoli in effetti Ah cavoli in effetti Buildare Effettivamente Fortnite Lo posso fare Cioè Sarebbe da fare No E vi ricordo soprattutto Che quando state Per andare vicino a un fiume Per oltrepassarlo Dovete Assolutamente Buildare un ponte Però ricordati Che se costruisci un ponte Devi distruggerlo dopo Altrimenti i nemici capiranno Che qualcuno è passato di lì No Luca E se capiscono che qualcuno è passato di lì Cosa fanno i nemici Ci passano sopra E sanno che sei da quella parte Esatto Ti danno la caccia Quindi devi distruggerlo Ma Se hai risorse in più La cosa importante da fare È anche Attenzione Attenzione Cosa cosa dimmi Coprire il ponte Cioè non fare solo una piattaforma No per passare un fiume Per non annegare È vero Ma anche proprio Anche proprio Buildarsi Nei dintorni Così I cecchini Non ti possono sparare Cioè è importantissimo questo Metti che ci sia un cecchino aereo Guarda che È un attimo Da quando hanno messo il cecchino semiautomatico L'hanno rimesso Tutti vanno con quello È forti È OP Cioè tre colpi in headshot Per uccidere devi fare Ho sentito dire che ninja Non usa più neanche la R Usa solo quel cecchino lì La Drungun Tutto Usa solo il cecchino automatico È perché da vicino Fai tanti danni come il pop E anche da lontano È fisso E non serve neanche Mirare i dieci colpi Esatto Ecco Queste sono le vere tattiche No vabbè Comunque Luca Io sono convinto E fiducioso Che una volta finito Questo video di Fortnite Io sono più che convinto Che avranno capito Le cose da fare Per fare trenta kill su Fortnite Che sono Iscriversi a questo canale Supportarmi nello shop Con il coach Hock tpfi E andare subito In partita A fare trenta Barra quaranta kill Ammettilo Sto già aprendo il gioco Ecco Sto già Guarda vado già a farle Bravo 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 Quindi semi automatico I punti Ammettila Che quella dello schermo Ti ha stupito Che non No sai la più La più utile Secondo me È quella delle skin lucenti Eh Sì È proprio Rivela train transit Ecco È super utile È super utile È super utile